Il dottore fa un po' di ricostato, fa quelli che vedeva sotto, tre venti sopra, gli mette a posto un po' di arcato, quindi gli dice, stai a sentire, però, se volete il ricostato sia veramente efficace, bisogna che ti leghi la mascella, per almeno 40 ore, scusami, viene. E va bene, dottore, cosa vuole? Ma come ti senti? Ah, sì, ma stessa bene. Sì, però ricordati, se ti fa male, viene domani, stasera, te lo tolgo, ma non ti confermo, non ti garantisco l'efficacia del lavoro, il risultato. Ma no, va bene, dottore, 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 dottore. Non puoi bere, 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 non puoi bere. E qui il cottello, e qui il cottello, e qui il cottello. E qual è il problema? Aspè! Oh, direi, dai, allora, un, due, tre, fa, facci... ma io non lo mangio tutto sto caffè lo facciamo prendere una feretta lo aspira e te lo buca dentro hai capito? dopo basta lo vuole per un caffè va bene la casa già va bene si ma come la feretta? come la feretta? tanto viene sciuta dai in telefono chieda quando la feretta? vai vermi Tutti li ritorno, sto capasciamolo Ora ti do a fare la soggetto E non è di cuore Tutte le volte diciamo Tutte le volte la racconta